Mattinate complicate per le scuole pesarese che al terzo giorno di ripresa dell'attività didattica vedono progressivamente aumentare il numero di assenze per casi di contagio e per quarantene dovute a contatti diretti compositivi. Emblematico il caso del liceo Marconi, istituto superiore ad alta demografia studentesca nel quale oggi si contavano 500 defezioni all'appello. Tradotto, uno studente su tre è rimasto a casa e gli è stata consentita la didattica a distanza. Assenze dai banchi, assenze anche dagli autobus, effetto domino delle entrate in vigore da oggi del Green Pass rafforzato per salire sui mezzi pubblici. Non su tutti però, sul trasporto scolastico dedicato è stata infatti applicata la deroga di entrate in vigore del Super Green Pass al prossimo 10 febbraio. Non così invece sugli autobus di linea che effettuano servizio di trasporto mattutino verso le scuole. Lì serve il Green Pass rafforzato e come dal 6 dicembre si è cominciato a fare i controlli a campione sul Green Pass base, da oggi sono partiti quelli sulla nuova certificazione. Ci sono stati problemi, abbiamo impiegato come già precedentemente facevamo i nostri verificatori, ovvero i controlli, i controllori che fanno normalmente controllo a bordo degli autobus li abbiamo impiegati a terra per i controlli a campione, quindi andiamo a chiedere il possesso del Green Pass rafforzato a chi vuole salire a bordo dell'autobus e nel caso l'utente non abbia il Green Pass rafforzato non possiamo farlo entrare a bordo dei nostri mezzi come appunto ci impone il decreto. Questi controlli si svolgono anche grazie alla collaborazione con le forze dell'ordine del territorio, abbiamo registrato ovviamente un calo dell'utenza perché chi non è in possesso del Green Pass rafforzato ha responsabilmente scelto di non utilizzare i mezzi pubblici per recarsi a scuola o nei luoghi di lavoro, cosa che sicuramente è apprezzabile perché altrimenti ci pone come azienda e come gestore di un servizio importante come quello dei trasporti in una situazione di grave disagio e in imbarazzo perché ovviamente noi puntiamo sempre ad offrire il servizio e se non possiamo ci troviamo nelle condizioni di dover impedire a qualcuno di utilizzare i nostri mezzi è sempre una cosa piuttosto gravosa, ma questo ci impone, ci impongono le nuove disposizioni del governo e questo noi dobbiamo applicare alla lettera per ovviamente il bene e la tranquillità di tutti, soprattutto in questo periodo.